E come ci ha ricordato Papa Francesco, non c'è stato consegnato dai nostri padri il pianeta sul quale viviamo, ma solo dato in prestito dei nostri figli. Grazie ad Anna Maria e Vito per questa cartolina. Ci hanno portato in giro a vedere, a conoscere, anche attraverso solo le immagini, le bellezze del nostro pianeta. E c'è chi si impegna quotidianamente per la salvaguardia del creato. Siamo collegati via Skype con Antonio Caschetto del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Antonio coordina i diversi programmi italiani. Ciao Antonio, benvenuto. Auguri a tutti, buona Pasqua e grazie Paola per l'invito. Auguri a tutti gli amici di Tele Padre Pio. Questo tulipano è anche per te Antonio. Allora, il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima nasce grazie a due eventi con i quali la Chiesa e l'umanità hanno risposto alla crisi ecologica. Quali? Allora, il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima nasce nel 2015. Era un periodo in cui si lavorava molto per la conferenza di Parigi, l'accordo di Parigi, che ci sarebbe stato l'anno successivo. E quindi c'era questa istanza a livello internazionale di impegnarsi per ottenere dei risultati che sono necessari. Perché il nostro pianeta, bellissimo, come abbiamo visto nelle immagini appena passate, però è necessità di essere curato, di essere salvaguardato. E siamo veramente sull'orlo di una crisi climatica. Non è solo un cambiamento climatico, ma è una crisi. Quindi anche la terminologia è molto importante. E si sentiva che in quel periodo il Papa stava scrivendo un'enciclica sul creato. Non si conosceva il titolo, non si conoscevano i contenuti. Però un gruppo di cattolici provenienti da diverse parti del mondo sentivano questa necessità di fare sentire la voce dei cattolici proprio su questi temi. E quindi è nato il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, che è stato in qualche modo benedetto attraverso il Cardinale Tagle nella visita che il Papa fece nelle Filippine nel 2015. Quello fu il momento in cui, in qualche modo, in vista dell'Accordo di Parigi e sapendo che stava per nascere questa enciclica, l'enciclica Laudato Si, ecco, questa è stata la molla che ha fatto scattare il mondo cattolico. Poi, quando abbiamo letto l'enciclica, è stata una grandissima gioia rivedere all'interno dei contenuti che andassero oltre il solo ecologismo. Perché il Movimento Cattolico si differenzia un po' da molti movimenti ambientalisti, perché il nostro focus non è legato solo al pianeta o alle specie viventi. Si parte da lì, però la salvaguardia di tutta la nostra casa comune, che è composta da relazioni. E in questo il nostro modello è San Francesco. Nella Laudato Si, nel paragrafo 10, Papa Francesco delinea in quattro pennellate il rapporto di Francesco e le sue relazioni con il Creato, con i fratelli, con Dio e con se stessi. Sono queste le quattro realtà che rappresentano in maniera molto sintetica che cos'è l'ecologia integrale. E quindi ecco, dalla crisi climatica si passa alla crisi socioambientale, perché tutto quello che riguarda il cambiamento climatico e la crisi ambientale determina dei disastri nelle altre parti del mondo, i tifoni delle Filippine per esempio, o piuttosto che la crisi nell'Amazzonia, l'approvvigionamento delle risorse. E quindi ecco, questo ci chiama ad impegnarci come mondo, come realtà cattolica, negli sforzi di advocacy. Quindi alzare la voce, la voce profetica, i cattolici hanno il dovere di alzare la propria voce in difesa del creato. E quindi tra queste campagne che noi portiamo avanti, la più importante sicuramente è quella per il disinvestimento dalle fonti fossili. Il mondo cattolico, tutto nito, riesce veramente a essere la principale istituzione al mondo per quantità di dollari, parliamo di 3,8 trilioni di dollari disinvestiti in questi cinque anni in cui abbiamo coinvolto il mondo cattolico insieme, quindi ordini religiosi, diocesi, conferenze episcopali, reti internazionali, ospedali, università cattoliche, tutti insieme per disinvestire e annunciare. E il prossimo annuncio sarà nella settimana laudato sì, che festeggerà in qualche modo nel mese di maggio l'anniversario della laudato sì. È stato un evento che è stato lanciato l'anno scorso per i cinque anni della laudato sì, poi il Papa ha lanciato un anno laudato sì che si concluderà proprio a maggio con la settimana laudato sì. Vi daremo ecco, sarà un piacere coinvolgervi e darvi tutti gli aggiornamenti anche sul ricco programma che prevede questa settimana di festeggiamenti. Certo Antonio, ti strappiamo già una promessa, quella appunto di sentirci proprio in quei giorni per raccontarci appunto come state vivendo quella settimana. Alla base del movimento appunto c'è un gruppo di teologi a livello internazionale, teologi, scienziati, laici e religiosi uniti dalla fede e dall'impegno sui temi che riguardano il cambiamento climatico. Abbiamo purtroppo poco tempo Antonio, però come agite concretamente? Sì, noi abbiamo un ruolo dentro la Chiesa, siamo un movimento, un'alleanza che raccoglie tante realtà già esistenti. Il nostro modello è l'Amazzonia, è la biodiversità. La biodiversità dell'Amazzonia rappresenta il suo punto di forza, allo stesso modo nella Chiesa c'è una biodiversità di carismi stupenda che va tutelata. Quindi noi facciamo leva su quello e raccogliamo proprio la forza, anche a livello comunicativo, la differenza dei linguaggi. Cerchiamo di essere lievito dentro le varie realtà cattoliche, però dando anche degli stimoli. Uno stimolo è uno stimolo di tipo spirituale. Noi come San Francesco e come Gesù, comunque nella prima fede, quella più che esce dai Vangeli, Gesù era una persona che amava pregare all'aperto, si ritirava in montagna, si ritirava nei deserti, quindi nelle sue parabole utilizzava sempre elementi della natura. Ecco, noi cerchiamo di portare dentro la Chiesa cattolica questo modello in uscita, rivivendo i momenti eucaristici, i riti, i vari momenti anche liturgici, però il più possibile in connessione con il creato. Quando uno prega per il creato ne scopre e ne assapora ancora di più la bellezza, come abbiamo visto anche nel video appena passato. Dio ha creato un mondo stupendo e quindi se noi iniziamo a pregare e a vivere una spiritualità ecologica, siamo poi chiamati ad agire, a riflettere. E questo lo facciamo coinvolgendo appunto la Chiesa in tutti i suoi aspetti, nelle reti internazionali, le diocesi, gli ordini religiosi, i movimenti. E questo mondo che noi in qualche modo raccogliamo con dei numeri importanti, tutti insieme con uno sguardo comune, lo sguardo della cura della nostra casa comune. In conclusione so che vuoi lanciare un appello a partecipare ad un corso, al prossimo corso Animatori Laudato Si. È vero Antonio? Sì, siete tutti veramente invitati a partecipare e a invitare, a condividere, a chiamare amici, persone che sentono questo desiderio di impegnarsi per la casa comune, quindi per il pianeta, per i più poveri, attraverso questo corso. È un corso di formazione gratuito che si chiama il corso Animatori Laudato Si, che inizierà il 13 di aprile. Si svolge in quattro incontri da un'ora su Zoom, ma potete trovare tutte le informazioni cercando Animatori Laudato Si. L'iscrizione è gratuita e ci sono, ecco, diversi relatori. È molto interessante il percorso. Abbiamo anche, ecco, il Cardinale Tagle che ci invita a impegnarci per la cura della casa comune. Siete tutti invitati come Francesco, come fu invitato San Francesco. San Francesco qui ad Assisi, nella chiesa di San Damiano, pregava in questa chiesa di Loccate e Gesù, in persona, con gli occhi aperti, gli chiedeva, Francesco va, va e ripara la mia casa, che come vede tutto è rovina. Ecco, l'inno, il logo di questo corso Animatori è va e ripara la nostra casa comune. È un modo per essere connessi nelle vostre reti, nelle vostre realtà, impegnandovi e poi vivendo la Laudato Si nelle vostre realtà. Allora, siamo certi che in tanti risponderanno all'appello di Antonio Caschetto, ma all'appello di Papa Francesco e di San Francesco. Grazie per essere stato con noi, Antonio Caschetto, del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Torneremo a sentirci nel mese di maggio, ne sono certa, con altri aggiornamenti. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie Paola. E Laudato Simi Signore a tutti. Laudato Simi Signore. Bene, allora, noi ci fermiamo qualche istante, linea alla regia, breve pausa pubblicitaria.